Avete presente quel momento in cui state guardando un film horror e improvvisamente leggete la frase tratto da una storia vera? Ecco, solitamente leggendo quelle parole, molte persone iniziano a spaventarsi molto più di prima. Ed è normale, la realtà spesso fa molta più paura di qualsiasi film. Ed è per questo che oggi voglio raccontarvi la vera storia che ha ispirato uno dei film horror più spaventosi degli ultimi tempi. Veronica. Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e prendere una tavola Ouija, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. A prescindere che crediate o meno al paranormale, vi garantisco che questa storia è davvero orribile e spaventosa. Ognuno di voi poi si farà la sua idea, ma a prescindere da questo voglio che conosciate la storia di Estefania, anche per farvi capire che cosa si cela dietro le parole tratto da una storia vera. Prima però vi ricordo che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video. Tipo questa nuova che mi è arrivata, che bella. Se le volete anche voi vi ricordo di inserire il codice Andrew sul sito, così riceverete anche delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Adesso cominciamo davvero col caso di Estefania. Tutto comincia da lei, Estefania Gutierrez Lazzaro. Purtroppo non conosciamo moltissime cose sul suo passato, per esempio anche la sua data di nascita, ma sappiamo quando si svolge questa vicenda, ovvero nel marzo del 1990, in Spagna, precisamente a Madrid. Ci troviamo nella periferia sud-est della capitale spagnola, chiamata Vallecas. Si tratta di un quartiere tranquillo e anche abbastanza festoso, ma verrà presto segnato per sempre da una vicenda ancora misteriosa e tutt'altro che piacevole. Qui abita Estefania, che fa parte della famiglia Gutierrez Lazzaro. Purtroppo questa famiglia fa un po' di fatica ad arrivare a fine mese, ma nonostante tutto cerca di trovare conforto nella religione cristiana. Estefania in particolare è molto appassionata a questa religione, e arriva al punto di informarsi e appassionarsi anche all'esoterismo, agli spiriti e in generale al paranormale, come me qualche anno fa. Non è chiaro da dove sia nata questa sua particolare passione. Per me, per esempio, è nata da un trauma dopo aver visto The Ring, ormai lo sapete. Ma comunque, data la sua religione, si può ipotizzare che tutto fosse partito da lì. Insomma, l'età di 16 anni è già totalmente dentro questo mondo, tanto che ne parla spesso e volentieri con i suoi amici e con sua sorella Marianela. Indubbiamente è affascinata dall'occulto e vuole scoprire tutto ciò che lo riguarda. Ama parlare di paranormale e trova ogni scusa per farlo. Mi sembro io veramente quando avevo 16 anni. Comunque, non sa, Estefania, che questo suo interesse si sarebbe presto trasformato nella sua condanna. È il marzo del 1990, Estefania frequenta il collegio delle suore insieme a sua sorella e quel giorno, mentre è al collegio, decide di fare un gioco proprio insieme a lei e ad altre compagne. Ma non un gioco normale e innocente. Cioè, di solito a 16 anni si gioca a obbligo verità, robe del genere, ma Estefania ha un'idea molto più particolare e decisamente più spaventosa. Insieme a sua sorella e altre compagne vuole usare la tavola Ouija. Sono sicuro che praticamente tutti conoscete questo gioco, tra virgolette. Ma per chi non lo sapesse, si tratta di una tavola su cui sono incise lettere e numeri, un sì, un no e la parola addio o arrivederci. Solitamente questo strumento viene usato per contattare le entità paranormali, demoni, spiriti, persone morte e via così. E per comunicare con loro viene fornita in dotazione anche una planchette, si chiama, che sarebbe un puntatore con una lente per vederci attraverso. Tutti i partecipanti devono mettere le mani su questa planchette, in modo da comunicare tutti con la presenza. E ovviamente sperando che nessuno muova la planchette di proposito per fare il cretino, perché sì, molti fingono e spostano il puntatore per spaventare gli altri, o per chissà quale motivo. Alcuni addirittura usano un magnete sul ginocchio per far sembrare che si muova da solo. Ma la tavola Ouija viene usata anche moltissimo da spiritisti di fortuna per manipolare la psiche fragile di alcune persone. E sinceramente lo trovo disgustoso. Ecco, questa era una brevissima sintesi di ciò che può fare la tavola Ouija. Si dice si è il ponte per comunicare con le entità, ma ci sono sicuramente molte persone che ne approfittano in un modo o nell'altro. Ecco, adesso devo dirvi che Estefania è una sedicenne particolare per l'epoca, perché al tempo di Norma i giovanissimi come lei non conoscevano questo strumento. La tavola era già famosa, ma tra i più grandi, tra gli adulti. Lei invece è super interessata all'occulto e la conosce già benissimo. Quindi quel giorno del marzo 1990 decide di provarla coinvolgendo anche delle sue coetanee, nonché sua sorella Marianela. Il... Eh? Cos'è successo? È caduto qualcosa ma non so cosa. Ma perché devono succedere ste cose quando parlo di fantasmi? Vabbè, il motivo per cui fa questa cosa, per cui vuole giocare con la tavola Ouija, non si conosce. O almeno online non ha trovato informazione al riguardo. Quindi è probabile che non ci fosse un vero motivo. Probabilmente comunque è stata una cosa premeditata, perché si era portata la tavoletta da casa. Quindi forse aveva già in mente di usarla proprio quel giorno. Comunque, pensiamo che ha 16 anni e verosimilmente vuole solo giocarci. Quindi quel giorno, alla fine, iniziano ad usarla. Una di loro, Marianela, la sorella di Estefania, è di guardia alla porta della classe per controllare se arrivasse qualcuno e, nel caso, avvisare le altre e smettere di giocare alla tavola Ouija. Quindi le ragazze si mettono a cerchio e cominciano con il rituale, ma non fanno neanche in tempo a comunicare qualcosa di concreto o ad interrompere per bene la presunta seduta che l'insegnante, una suora, le becca. Ed essendo appunto un istituto cattolico, potete immaginare l'orrore di quella donna, che vede davanti a lei delle alunne attorno ad un oggetto demoniaco. La suora entra in classe all'improvviso, le vede, toglie via la tavola Ouija e spezza in due la tavoletta davanti a loro. È indignata e oltraggiata e loro sono lì che, incredule, assistono a questa scena. Ma la cosa strana è che effettivamente succede qualcosa di paranormale, o almeno a detta delle compagne di Estefania. Nel momento in cui la tavola viene brutalmente spezzata, queste ragazzine avrebbero visto fuoriuscire una sorta di fumo, un qualcosa di gassoso e molto strano che purtroppo Estefania inala accidentalmente. Sembra essere successo tutto in pochissimi secondi, talmente tanto in fretta che tutte le presenti non hanno neanche realizzato ciò che stava accadendo. Cioè, non si spiegano cosa sia successo né riescono a capire se fosse un qualcosa di reale, magari qualcosa di immaginato da loro. Forse per via della suggestione, o comunque non so. Tutto molto strano, insomma. E lo è anche per Estefania, che non realizza il tutto e respira impotente questo misterioso fumo bianco. Ora, che crediate o meno a queste cose, è documentato ovunque che dopo questo episodio, cioè da quando la tavola è stata spezzata e la ragazza ha inalato quella specie di fumo, la sua vita è cambiata. È cambiata in peggio. Inizia adesso il vero orrore di tutta questa vicenda, nel caso che verrà ricordato, come il caso Vajekas. Sicuramente adesso molti stanno pensando che Estefania ha respirato una presenza spiritica che ha messo un demone dentro di sé, ed è ciò che comunemente si dice sia probabile. Ma anche da un punto di vista puramente scettico, diciamo che fa riflettere. Cioè, ragazzi, ha inalato qualcosa di strano nell'esatto momento in cui una tavola Ouija è stata spezzata. Io non starei molto tranquillo, anche se non credo nel paranormale. Anzi, dopo quel rumore forse inizio a crederci, comunque. È probabile che la ragazza fosse di base molto superstiziosa, e quell'avvenimento, casuale o non casuale che fosse, avrà sicuramente scatenato in lei un uragano di sensazioni. Sensazioni spiacevoli, ovviamente. Aggiungiamoci il fatto che il nostro cervello ha delle facoltà spaventose, perché è addirittura in grado di farci ammalare, se siamo convinti di esserlo, e ci troviamo così in un caso veramente particolare. Quindi, che si tratti di una possessione, o di una tremenda suggestione, il punto è che Estefania, da lì in poi, cambia proprio completamente. Diventa pericolosa, inquietante, scatenata da una furia che danneggia gli altri e se stessa. Da questo momento, la ragazza inizia a soffrire di insonnia, di allucinazioni e anche di attacchi epilettici. I genitori si preoccupano tantissimo e fanno tutto quello che possono fare per aiutarla. Ma ogni volta, i medici non riescono a risolvere il problema, né a capirne la causa, e Estefania sembra soffrire di sintomi sconnessi tra loro. In sostanza, per loro potrebbe avere tutto, come potrebbe avere nulla. Ad un certo punto, le sue allucinazioni si fanno estremamente spaventose. Dice di vedere strane forme umanoidi che vengono a trovarla di notte. Non hanno un volto e sono coperte da un mantello. Le chiedono di andare con loro. Anzi, non sono così gentili da chiederglielo. Glielo ordinano. Oltre a questo, Estefania inizia a vedere animali deformati. Spaventose creature che appaiono davanti ai suoi occhi. Non solo quando sta dormendo, ma anche quando è completamente lucida. Sveglia e anche in pieno giorno. Alcune volte dice che sono ai margini delle porte, lungo il corridoio. Altre volte sono in un angolo buio che lo osservano. Alterna questi momenti da incubo con altri in cui è completamente immobile a fissare il vuoto. Momenti che lasciano davvero perplessi tutti quanti in casa. A volte comincia anche a parlare in lingue che non poteva conoscere. E come se non bastasse, addirittura i suoi stessi genitori, in un'occasione, la vedono levitare. Altre volte comincia a ridere in un modo isterico senza nessun motivo. È una risata incontrollabile. Non aveva mai riso così. È come se qualcun altro dentro di lei stesse usando il suo corpo per ridere in quella maniera terribile. Tra le mura di quella casa, nessuno si sente più al sicuro. E soprattutto è Stefania, che vi ricordo a solo 16 anni, ormai non è al sicuro. Perché questi eventi paranormali non sono solo messi in scena da lei. Cioè, anche volendo non avrebbe potuto farlo. Queste diventano situazioni che riguardano la casa stessa e tutta la famiglia. Ora, pensate ad una cosa a caso che avete visto in un film horror. Ecco, a casa sua è successa. Ci sono oggetti che si muovono da soli, porte che sbattono, cose che si rompono e addirittura urla. Voci spaventose in piena notte. Poi, non solo Stefania, ma anche gli altri membri della famiglia, ogni tanto vedono con i loro occhi qualcosa a strisciare nel buio. Una presenza che entra nelle loro stanze e poi sparisce nel nulla. A volte però non va via. Rimane lì. Li afferra per i polsi e causa loro numerosi lividi alle braccia. Chiaramente nessuno sa cosa fare, cioè non sanno davvero che cosa pensare, ma intanto fanno ciò che farebbe ognuno di noi, ovvero continuano a portare la ragazza da medici in diversi ospedali. Cercano di trovare la causa dei suoi malesseri, ma i medici ancora una volta non riescono a trovare nulla. Sembra che Stefania non abbia nessuna patologia, niente di niente. Sicuramente ha qualche sintomo diagnosticabile, ma non si spiega la causa. Non si trova niente che spieghi clinicamente quello che sta passando, e né tanto meno quello che sta succedendo in casa. Possibile che tutti i familiari siano soltanto suggestionati. Ma se così fosse, come si spiegherebbero gli oggetti rotti? Qualcuno forse in famiglia è sonnambulo, ok? Ma se fosse così, perché se ne stanno accorgendo solo adesso? Oppure se stanno fingendo tutto quanto? A quale scopo? Attirare l'attenzione? Boh, semplicemente non avrebbe molto senso. È tutto molto strano e spaventoso, e le domande che sorgono sono tantissime. E Stefania, giustamente, ha paura di tutta questa situazione, perché nemmeno lei sa spiegarsi questi fenomeni. Sente come se davvero dentro di lei ci fosse qualcosa, una sorta di forza che le causa tutti questi problemi. Ormai lo sappiamo, è appassionata di occulto e paranormale, quindi sicuramente anche lei avrà pensato di essere impossessata da un demone, ma forse non vuole neanche ammetterlo, o quantomeno forse non lo vuole esternare. Non sappiamo se in questo periodo difficile abbia continuato ad andare a scuola o a frequentarsi con gli alunni e gli insegnanti. Non sappiamo neanche se in luoghi pubblici abbia mai manifestato qualche sorta di sintomo. E se sì, sicuramente avrà contribuito a creare un disagio e una paura allucinante attorno a sé. E Stefania, cioè, non può più fare nulla a causa di questa condizione. Sicuramente in questo periodo si sente molto sola e impotente. Poverina. Anche qualora non si trattasse di una possessione, ragazzi, e fosse in qualche modo tutto causato dalla sua psiche, deve essere comunque un inferno. Immaginate di essere lei e di avere queste esperienze che potrebbero essere scambiate per possessioni demoniache. Come vi sentireste? È davvero uno schifo, ragazzi. Molto probabilmente anche i suoi genitori, infatti, pensano al peggio. Ma non sappiamo se è stata vista da un prete esorcista. Tuttavia, si teorizza che più la paura in casa cresceva, più questa possibile entità se la prendeva con tutti. Ogni cosa, però, sarebbe partita da Stefania che purtroppo, con il passare del tempo, arriva anche a fare del male. Durante il picco dei suoi attacchi, il 13 luglio 1991, aggredisce violentemente sua sorella Marianela, che poverina si ritrova riversa al suolo con della schiuma che le esce dalla bocca. Il giorno dopo, il 14 luglio, Stefania ha un grave attacco di catalessi, viene quindi subito portata in ospedale, ma ormai era in coma, in uno stato grave di coma. Quindi, purtroppo, la sedicenne da cui tutto sembra essere partito muore proprio quella notte. L'autopsia non riesce neanche a spiegare le ragioni del decesso. Parlano di asfissia polmonare, ma con una nota misteriosa. Cito. Morte improvvisa e sospetta. Qualunque cosa voglia dire, qualunque cosa le sia successa, purtroppo, Stefania non c'è più. Ha lasciato questo mondo e, dal momento in cui muore Stefania, i fenomeni paranormali in casa Gutierrez si accentuano ancora di più. La madre comincia a sentire la voce di Stefania. È una voce che la chiama dalle altre stanze e che urla disperata. Oltre a questo, sempre la madre di Stefania, comincia a sentire le inquietanti risate di un uomo anziano. Risate che sembrano attraversare le pareti. Poi i vetri che si rompono senza spiegazione, oggetti che si muovono, porte che si aprono e chiudono da sole. Insomma, le attività paranormali diventano ancora peggiori di prima e molto più violente. Anche prima che la ragazza morisse, tutti avevano notato che la presenza avesse un certo potere in una stanza in particolare. Il bagno. Il bagno che di solito è il luogo più intimo di una casa, lì è la stanza peggiore di tutte. In quel punto, sia Stefania quando era in vita, sia tutti gli altri dopo, avvertono qualcosa o qualcuno. Certe volte la porta del bagno si chiude da sola e rimane sigillata per ore intere. Così, senza alcun motivo. Vi prego di immaginare queste situazioni, ma non come nei film con la musica inquietante di sottofondo. Immaginate di essere voi nel mondo reale in bagno. Siete tranquilli e vi state lavando le mani. Sentite solo il suono dell'acqua del rubinetto e le vostre mani che sfregano il sapone. Non c'è nessun altro rumore in casa, nemmeno il suono dell'orologio in cucina. Un silenzio di tomba. Mentre vi asciugate le mani, la porta dietro di voi sbatte violentemente e non riuscite più ad aprirla. Usate tutta la vostra forza ma non accenna a muoversi. Non avete il telefono con voi e non c'è nessuno in casa che vi può aiutare. E mentre impazzite, sentite un freddo glaciale. Sentite come se qualcuno con delle mani gelide vi stia toccando la spalla. Poi i gomiti, poi i polsi. Vi girate di continuo ma siete soli. Ogni tanto sentite urlare qualcuno in lontananza. Sentite cadere degli oggetti da qualche parte ma voi sapete che siete soli. Eppure provando anche a spaccare la porta non riuscite ad uscire. State lì seduti per ore intere fino a quando sentite rincasare qualcuno e solo allora quel qualcuno può salvarvi. Ecco, spero che abbiate capito come si sentivano. Erano impotenti e terrorizzati. Ma oltre a questo episodio ne sono successi altri purtroppo. Una notte, per fare un altro esempio, la madre di Estefania sente qualcuno che le tocca le mani e i piedi mentre dorme. Ma quando accende la luce non vede nessuno. Un'altra notte le figlie piccole si svegliano terrorizzate. Le loro braccia erano state sbattute violentamente al muro. Ma è inutile urlare e cercare. Ancora una volta non si vede niente. Lo so ragazzi, è tutto davvero assurdo e quasi classico da film horror ma ricordiamoci che tutto si è svolto negli anni 90. Anni in cui la medicina e la scienza erano già decisamente avanti. Ed è strano infatti che non siano riusciti a trovare niente alla ragazza. È anche strano che negli anni 90 pochissimo tempo fa siano successe queste cose. Però tutti questi momenti spaventosi non sono niente in confronto a ciò che succede il primo novembre 1993. Sono passati due anni dalla morte di Estefania e improvvisamente senza alcun senso logico la sua foto appesa in soggiorno prende fuoco ma non brucia tutta come ci si aspetterebbe se si dà fuoco ad una fotografia. L'unica parte a bruciarsi è quella che raffigura il suo volto. Né la cornice né gli oggetti vicini o altre parti della foto vengono danneggiate. È davvero strano che a bruciare sia stata solo una parte della fotografia. Cioè come come ve lo spiegate? Infatti da qui la famiglia decide di chiamare la polizia per testimoniare un evento ancora più inquietante. Però devo dirvi che qui c'è un dettaglio diverso tra le varie fonti. In alcuni articoli si dice che in realtà l'evento della foto bruciata sarebbe accaduto molto dopo rispetto alla chiamata alla polizia. Mentre in altri si dice che siano stati eventi concatenati. Cioè che la foto bruciata è venuta subito prima della chiamata. Ma quindi cos'è successo? Ecco quella notte il detective José Negri e la sua squadra arrivano sul luogo. Trovano l'intera famiglia che li aspetta fuori casa sotto la pioggia. Sono tutti terrorizzati a morte. Non vogliono più avere niente a che fare con quella casa. Mentre un paio di agenti restano con i genitori e ascoltano l'intera storia che hanno da raccontare l'ispettore Negri e altri due agenti entrano nell'appartamento. Il rapporto trascritto dopo quella perlustrazione diventerà quasi un oggetto di culto tra gli appassionati di paranormale. Questo perché quel rapporto che vi ricordo è ufficiale e fatto dalla polizia descrive delle cose decisamente strane. Parla dell'anta di un armadio che si apre violentemente nonostante fosse chiusa a chiave pochi secondi prima. Ciò accade davanti agli occhi degli agenti che erano vicinissimi. Infatti quest'anta ha addirittura sfiorato i loro volti mentre si apriva. Poi vengono descritti rumori fragorosi provenire dal balcone dove però non c'è nulla. Si parla anche di una strana bava marrone che si forma su un comodino ma non è tutto. Mentre sono lì un crocifisso che era prima appeso alla parete viene trovato per terra. Questo crocifisso ci tengono a dire è strappato dal legno su cui era montato non è semplicemente caduto e sulla parete dove era appeso ci sono chiaramente tre graffi come se tre artigli l'avessero strappato dal muro. Gli agenti poi ispezionano anche il bagno che secondo la famiglia è il luogo più infestato della casa e in effetti anche loro capiscono che lì c'è qualcosa che non va. Avvertono un calo improvviso di temperatura mai percepito prima in vita loro. E poi basta non stanno molto lì perché banalmente si cagano addosso e escono via più in fretta che possono. Sanno mentre vanno via che non possono fare nulla per questa famiglia sicuramente li aiutano a mettersi al sicuro ma di certo non possono aiutarli legalmente non ci sono leggi che proteggono da demoni o dalle presenze a questo punto quindi la famiglia fa la cosa più sensata al mondo la cosa che credo tutti noi avremmo fatto anche all'inizio cioè da quando iniziamo queste cose io l'avrei fatto subito ovvero se ne vanno da lì poco tempo dopo la famiglia Gutierrez vende l'appartamento e si trasferisce non si sa dove una volta andati via sembra che qualcuno abbia comprato quella casa e pare che non si siano mai più verificati fenomeni di alcun tipo qualsiasi cosa ci fosse stata lì o se ne è andata o è rimasta per sempre con la famiglia Gutierrez il caso Vallecas è uno dei più celebri casi di fenomeni paranormali della Spagna a documentarlo sono stati gli agenti della polizia nazionale che non si lasciano suggestionare facilmente e che comunque non potevano essere influenzati dalla storia dell'appartamento dato che loro quelli che sono entrati non sapevano nulla di ciò che era successo è piuttosto difficile immaginarseli complici di una bugia così grande è pur vero però che certe cose forse si possono spiegare con la logica e la scienza per esempio qualche tempo dopo la madre di Estefania venne sottoposta ad un esame psicologico ed i risultati si riscontrarono segni di instabilità emotiva bisogno di attenzioni e propensione all'ansia ciò lascia intuire che in qualche modo possa aver accentuato gli eventi a cui aveva assistito e chissà magari ha trasmesso questi suoi stati d'animo anche ai suoi figli in particolare alla stessa Estefania forse a causa di sua madre che si è appassionata all'occultismo diventandone poi vittima ma è difficile dirlo e io sicuramente non sono qui per giudicare tuttavia gli eventi descritti dal rapporto di polizia erano slegati dalle storie raccontate dalla madre e vanno intesi come fatti oggettivi realmente accaduti non credo ci sia modo di falsificare un documento così ufficiale e anche se fosse quale sarebbe il motivo per fare pubblicità al caso e da quando un caso irrisolto sarebbe un vanto per la polizia di sicuro aumenterebbe la curiosità di noi persone comuni ma danneggerebbe la reputazione della polizia specialmente se si tirano in ballo cose come demoni e fantasmi cioè è piuttosto strano che si tratti di un complotto potrebbe esserlo non escludo nulla ma è una speculazione come un'altra questa storia per alcuni aspetti mi ricorda un po' quella del volo 401 anche lì abbiamo assistito a fenomeni paranormali molto strani alcuni talmente assurdi da essere incredibili ma anche lì come qui perché si dovrebbe mentire perché fino a questo punto quale sarebbe il vantaggio tornando alla nostra Stefania possiamo fare tantissime ipotesi per esempio potremmo sospettare della presenza di qualcuno in carne ed ossa magari uno psicopatico che irrompeva in casa loro e faceva sembrare che ci fossero dei demoni ma anche questa teoria non ha alcun fondamento tutto sembra essere cominciato quando la suora ha spezzato quella tavola Ouija quindi i dubbi sono tanti e come spesso accade in casi del genere tutto si conclude in modo molto vago e inquietante non sappiamo se la famiglia una volta trasferita abbia assistito ad altri fenomeni però si dice che una volta nel cimitero in cui è seppellita Stefania la sua foto ha preso fuoco ed è stata trovata per terra spaventoso vero ma sinceramente credo sia un'informazione da prendere con le pinze anche perché vabbè chiunque avrebbe potuto fare una cosa simile specialmente qualcuno che conosceva il caso comunque sappiamo davvero troppo poco riguardo questa vicenda cioè di concreto abbiamo solo i rapporti della polizia l'esistenza delle persone coinvolte e la morte di Stefania tutto il resto potrebbe essere sia falso che vero questo però non ha affermato la curiosità delle persone tanto che come sapete ci hanno addirittura fatto un film Veronica si tratta di un film diretto da Paco Plaza che è in streaming su Netflix dal 2018 per la sua realizzazione i produttori hanno proprio preso ispirazione dalle vicende che hanno visto Stefania vittima di queste presunte presenze paranormali e il risultato è stato un successo mi ricordo che qualche anno fa tutti dicevano che Veronica era il film più spaventoso mai esistito dicevano tutti di non riuscire a guardarlo perché faceva troppa paura tutte cose così ma boh sinceramente io all'epoca l'ho guardato e non mi ha minimamente toccato anzi ci sono film molto più spaventosi secondo me ma comunque la paura è soggettiva quindi ci sta che a qualcuno faccia paura e ad altri no tutto ciò per dirvi che nonostante il successo gli eventi che vediamo nel film sono sì molto simili ma comunque tremendamente diversi dalla storia reale come si fa spesso specialmente nel genere horror si tende ad esagerare e spettacolarizzare il più possibile quindi molte cose che vediamo nella pellicola non sono altro che esagerazioni cose mai accadute insomma spero che comunque abbiate capito che la storia vera di questo caso è molto meno spettacolare e decisamente più complicata ma voi che idea vi siete fatti pensate che stefania abbia subito una vera possessione demoniaca oppure credete che tutto si possa spiegare usando semplicemente la logica a voi la parola come sempre intanto ai pochissimi fedeli che rimangono fino a qui anticipo che presto vi parlerò di un caso davvero strano soprattutto perché stava accadendo davanti agli occhi di tutti su tiktok nessuno però avrebbe mai potuto immaginare quello che stava accadendo ragazzi veramente sarà assurdo spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo adesso di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao